Sofì Codegoni, addio Basciano, la nuova fiamma è un attore spagnolo. L'indiscrezione L'ex Vipona è stata pizzicata a Milano in compagnia di Aaron Piper, noto per il ruolo di Ander Mugnoz nella serie Netflix Elite, Nuovo amore all'orizzonte Sofì Codegoni guarda avanti. La rottura tra l'ex Vipona e Alessandro Basciano è stata una delle più discusse dello scorso anno nel mondo del gossip, anche e soprattutto per le varie frecciate e botte e risposta che ne sono scaturite La coppia nata al grande fratello Vipsei, e che l'anno scorso ha dato alla luce la piccola Celine Blu, tuttavia, sembrava essersi riavvicinata negli ultimi tempi, soprattutto in occasione del compleanno della figlia Ieri, però, è arrivata una segnalazione destinata ad allontanare le voci di una riconciliazione Sofì Codegoni è stata infatti vista in compagnia di quella che potrebbe essere la sua nuova fiamma. Scopriamo di chi si tratta e tutti i dettagli Sofì Codegoni e Alessandro Basciano al Capolinea Poco dopo il naufragio della relazione con Matteo Ranieri, scelto al termine del trono di uomini e donne, nel 2021 Sofì Codegoni è entrata nella casa del GFV Psei, dove è sbocciato l'amore con Alessandro Basciano I due hanno viaggiato sulle ali dell'entusiasmo per lungo tempo, prima con la proposta di matrimonio al Festival di Venezia, poi con la nascita della prima figlia Lo scorso anno, però, la rottura è sembrata insanabile, ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, lei parlò di terze persone e tradimenti, ma anche di maltrattamenti, mentre l'ex Vippone negò tutto accusando Sofì di impedirgli di vedere la figlia Le tensioni, come detto, si erano affievolite nell'ultimo periodo ma, secondo le ultime indiscrezioni, ci potrebbe essere un motivo ben preciso La segnalazione Stando a una segnalazione arrivata sul profilo di Dejanira Marzano e rilanciata dall'esperta di gossip tra le sue stories di Instagram, Sofì Codegoni potrebbe avere ritrovato l'amore L'ex Vippona è stata avvistata a un evento in Monte Napoleone, nel centro di Milano, in compagnia di Aaron Piper L'attore spagnolo di origini tedesche classe 1997 è noto principalmente per il suo ruolo nel cast della serie Netflix Elite, dove interpreta Ander Munoz Secondo le persone che hanno inviato le segnalazioni, i due sono stati visti in atteggiamenti molto complici e mano nella mano per le strade di Milano Deja, ieri sera all'evento sopra il Salumaio Immone e Napoleone sono arrivati insieme Sofì Codegoni e Aaron Piper, quello di Elite, erano molto affiotati e poi sono andati via mano nella mano Sono riuscita a fare solo questa foto perché avevo paura e mi vedessero scrive un utente Sofì Codegoni e Aaron Piper